Ciao a tutti ragazzi, io sono Concetta e la mia sorella Agatha. Oggi siamo qui per mostrarvi le pinipon. Un pacchettino. Allora, già abbiamo aperto questo qui che è il secchiello. Dai, alza il tappo! Alzalo! Io! Alziamolo! Gli accessori piccolini, mamma. Perché poi le pinipon non ce le faccio. Dai, dai, dai! Vedi che vola tutto. Attenta. Qui. Allora, qui ci sono le struzioni. Oh, che bello, quante cose. Guarda, quante cose, sì. Qui ci sono gli scompattimenti, così possiamo mettere tutte le tappi. Ma guardate quanti accessori, tanto, molto belle. Wow, quante teste. Quante teste, quante magliette. Quanti bel capelli. Apriamo tutto, sono un po' curiosa. Conci! Quanti climi. Conci, sembra questo. Quanto. Sì, di qui. Sono bell'altro. Oh, io ci sono. Oh, che bella piccola. Finalmente ho quella con i tacchi. Finalmente. Vediamo la seconda espressione. Apriamo. Apriamo. Grazie. Aspetta. Che bella. Che forbice. Qui. Allora, io apro i capelli. E io apro queste. Le teste. Ah, ma io apro, anzi, questi. Uh, che belli. I capelli. Le mie porbice. Mi sembra un'altra porbice. Aspettate. Eccomi qua. Oh, attenta. Stai riuscendo. Oh. Oh. Qualcosa a terra? Qualcosa a terra? No, non c'è mia porca. C'è solo il pavimento. Oh, c'è anche bucchi. Sì. I tacchi. I tacchi. Sì, che so. I capelli. I tacchi. I tacchi. I tacchi. Le magliette e gli accessori ci vogliono. Le magliette. Ci sono le magliette. Eccole qui. Carina. Sono bellissime. Il tocco d'angelo di riccenda. Sì, lo so. Oh. Tante facce. Sono fatti. Ui. Ci hanno tante facce. Wow. Tutte da intercambiare. Sono tantissime. Oh. Finalmente. Quanti pinipone che abbiamo. Finalmente. Non vedevo l'ora. Allora, già le smettiamo tutte. Una cosa. Così possiamo già. Ancora? Sì. Ah, un'altra cosa. Ci siamo dimenticate un accessorio. Oh, che bello. Togliamo tutto. Tutto togliamo. Smontiamo tutto. No, aspetta Agatha. Aspetta. Agatha è già impazzita. Perché vuole subito giocare. Allora, vogliamo. Aspetta. Ancora dobbiamo. Vogliamo farcina. Aspetta. Ma cosa hai da spettare? Scusa. Perché prima le dobbiamo smontare tutte. Che bello. Sì, sì. Mamma. Dai. Già, Agatha. Tu puoi incominciare. Allora, prendo. Questo, questi capelli, questi qui. Mi fai dare quei palloncini. Quei palloncini, che è? Poi, le teste qui, le cose qui. Vieni. Allora, questi capelli. No, ma gli atti. Sì, sì. Poi ci mettiamo questa qui, che è una bella testa, che è una bella faccia. Questa qui, che è anche questa faccina qui. Però io la metto da questo lato. Eccola qui. Questa è la mia. Questa è la mia. Possiamo mettere anche gli accessori qui, questi qui. Vi avvicino un po'. Così potete vedere. Ci metto i codini. Ecco qui. Ci metto i codini. E metterci con te. Allora. Ah, ci sono anche questi. Certo, altri codini. No, però non ti ho fatto. Certo, sì. Ma che da mettere tipo qua? Perché non ti vale tanto. Poi, come maglietta, le voglio mettere... Io le metto qui. Le metto... Questa maglietta gialla. Molto carina. E in testa ci metto un cuorescino. Molto estiva, devo dire. Oh, che bello. Una gonnellina verde. Merde. Ho qualcosa nel cuore. No, anzi, questi pantaloni. Molto belli. Anche io ce l'ho. Certo. Eccola qui. Guardate che carina. Adesso è arrivato il momento di mettergli gli accessori. È un fiore, è un fiore. Le metto questa molletta qui, in testa. Per me vedere. Questa molletta qui. No, anzi, no. Non le metto in testa una mollettina. Le metto... Lei è pronta? Un cuoricino. Lei è pronta? Sì, un cuoricino. Oh, anche io. No, ce ne ha troppi messi accessori. Qui, no, nella fibia ci devi mettere qualcosa di piccolo. Di piccolo, tipo questo diamantino. Nella fibbia qui. Poi, ci metto nella fibbia della cintura, dei pantaloni, un bel fiocchettino. Questo qui. Guardate, lo vedete. Ecco. Però, le devo mettere qualcosa in mano. Che tenga qualcosa in mano? Pronta? Questo ossettino. Sì, dai. Pronta? Anche lei è pronta. La bozza. Prima, pronta. Pronta la prima. Ok. Oh, oh. Si è caduto il coso, il regalino. Io passo con la seconda. Prendo questi capelli maschili. Quindi, adesso una faccia maschile. Una faccia, una faccia maschile non c'è. Una faccia maschile. Sì, questa qui. Questa qui. Che carino. Molto carino questo pinipombo maschietto. Pronta? Sì. Mettila da questo lato. Togliamo tutte cose. E le metto, ovviamente, i pantaloni forse maschili. Vabbè, le mettono qualcos'altro. Magari i pantaloni, le li levo. Ma io devo le metterle. Vabbè, no, i capelli azzurri. Vabbè, mettilo tu, maschile. Vabbè, io faccio la femminuccia. Una bella femminuccia. Metto questa faccina qui. Poi, ah? No. No, i tecchino, lui, non ce l'ha. Non deve avere i tecchi. No, non è questa la sua maglietta. Questa è la maglietta. Poi, a lei, le mette. La mia è la sua maglietta. Non è la sua maglietta. E qual è? Allora, noi vi dobbiamo salutare. Ciao. Ciao. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Mettete like. Mettete like. Mettete like. Mettete like.